Volevo proporvi un altro prodotto, tutto l'ho già utilizzato per il tutorial sul rinnovo del barbecue e mi sono trovato decisamente bene. Questo bastone selfie treppiede con luce di riempimento. È un bastone molto comodo, devo dire, dalle dimensioni non ingombranti, si può portare tranquillamente anche in tasca. E ha la particolarità di avere una luce aggiuntiva nel caso avessimo bisogno appunto di illuminare le nostre scene. Ve lo faccio vedere innanzitutto la marca è la Selfie Show. Per arrivare in questa confezione che andiamo ad aprire, cosa abbiamo dentro? Un cavetto di ricarica USB-USB-C, una pila di scorta, questo direi che è un plus. Qui abbiamo tutta una serie di foto dove ci spiegano tutti i dettagli, le varie funzionalità. E questo è il selfie treppiede che vi arriva. Ecco, guardate quanto è compatto. Questa è la luce che vi dicevo. Allora, per utilizzare, stra comodo. Qui c'è una piccola leva, basta sganciarla. Questo si apre in questo modo. Andiamo a stringere. Dopodiché, questa base si allunga. Ecco, tenendolo in questo modo, non è mai come ho fatto io prima di qua, ma da qui si tira. Ecco, guardate. Voi potete naturalmente gestire il treppiede perché ha una bella angolazione di circa 20 centimetri. Adesso io ve lo abbasso naturalmente. Ha un'estensione che arriva a circa 120 centimetri di altezza. Davvero comodo. E che particolarità ha? Qui voi avete le due clip per andare ad agganciare il telefono. Quindi ha un'estensione anche parecchio ampia. Potete agganciare anche telefoni piuttosto ingombranti. Un'altra cosa che penso sia davvero utile è questo telecomando, sempre con connessione bluetooth, in modo tale che voi posizionate il vostro treppiede in qualsiasi punto distante da voi. E con questo telecomando, qui c'è l'interrettore naturalmente on-off, schiacciatevi, potete fare una foto, potete fare tranquillamente un video. E poi andate a naturalmente riposizionarlo con comodità. Nel frattempo vi faccio notare che qui in studio abbiamo posizionato il nostro camper. Io sono qui che sto facendo la griglia naturalmente. Questo nasce oltre che come treppiede come selfie stick, perché naturalmente lo andate poi a chiudere, lo allungate per chiuderlo. Ecco, in questo modo. Potete naturalmente inclinare il tutto, allungare a piacimento e riprendervi. E ha la particolarità di avere, come vi dicevo, questa luce. Questa luce naturalmente, qua c'è il suo interruttore, a tre intensità. La 1, la 2 e la 3. E si può staccare, vedete, in questo modo. Si va ad agganciare così. Quindi quando voi vi state riprendendo, vi potete illuminare. Oppure, se andate a riprendere all'esterno, illuminate la zona che sta di fronte a voi. Naturalmente, ragazzi, la luce è ricaricabile con questo cavetto che vi dicevo è USB-C. USB, quindi comodissimo, ricarica rapidissima. Se io devo dire che questo è un prodotto veramente comodo, perché lo cercavo con queste dimensioni. Ce ne sono anche di più grandi, con le estensioni maggiori. Ma io ho provato di poter fare tranquillamente una bella foto in due, a una distanza di un paio di metri, di tre metri, senza problemi, con il vostro telecomando. Il costo è davvero risorio. Vi lascio comunque il link all'acquisto che l'ho acquistato su Amazon. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo accessorio. Noi lo porteremo in fiera insieme a una combo che ho creato per fare i video al salone del camper e condividerli il più velocemente possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se il canale vi interessa fate un'iscrizione al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre sui nostri prossimi video. Cerchiamo di proporre i video nel più breve tempo possibile. Per cui ragazzi, come al solito, seguiteci per rimanere sempre in viaggio con noi. Ciao da Beppe!